Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Rosy, oggi siamo in compagnia di un altro youtuber, Ale Warrior, vi invito a iscrivervi sia il mio sia il suo canale, e lascia il like ai nostri video, grazie per chi lo fa, comunque andiamo subito in battaglia, andando, accetto l'invito, e andiamo, se Ale Warrior accetta ovviamente, col suo il primo Frank e io utilizzerò Brock, che in questo modo da spacca, aspettando a, lo continuiamo ad aspettare, ok raga, mentre aspettiamo, mentre aspettiamo Alessandro, che è uscito un ottimo, mettiamo, aspettando, aspettando lo mettiamo, dove venza, e ci facciamo una partita, così, forse gli è trasseltato da connessione, allora andiamo subito verso l'alto, che ho visto una passetta, non gestiamo Frank, secondo me non gesto proprio verso quella, vabbè, lui è uscito, quindi, ciao ciao, c'è qualcun altro, proviamo a fare un duo, ok, proviamo il duo, forse ce la facciamo stavolta, speriamo di sì, perchè, non voglio portare con un video sconfetto fail, ok, prendiamo subito quello, attenzione al primo, spammene, stavolta, non essere troppo aggressivo, perchè poi, va a finire come non deve, ecco, ok, bella game, ho quasi la multicarica, se lei è la piazza al centro, siamo messi benissimo, ok, perfetta là, attenzione qua, ti ho visto, ok, multimessa bellissima, peccato, potete vedere anche quelli, allora, scopi rimaste tre, quindi, teoricamente, non ce ne erano, coppe, questa la è troppo prevedibile, ok, andiamo a farci il culo da essa, ma, certo, questo, insomma, di livello 10, non è neanche uno, che non so come ha fatto scampare da quella multi, ma, che è successo, non... no, peccato, vabbè, ce l'avevamo così fatta, comunque, più una coppa ce l'avevamo presa, magari, il pip-pam non è il massimo per questo che il dà, Alessandro non so che fine ha fatto, comunque, già siamo a 9 minuti di video, un po' troppo, non vediamo che posso fare, questo, questo, ok, allora, adesso andiamo in partita, vediamo di fare una posizione miglia di quello che abbiamo fatto arrivo, proviamo, almeno, allora, se tu vuoi prendere quella, se riesco, vado a prendere l'altra, che mentre il registro ne leggo un po', se vedete, comunque se ne è piuta sola, allora, l'aceto 2, bella lì, non riesco a prenderlo, eccolo, eccolo, ho visto, è scappato, però, io ne vedo un bloccuratore, attenzione che c'è una, una piper, una tara, una ciappam, che l'ho fatta fuori, dopo di multi, vai, vai, no, peccato, un colpo e moriva, comunque, c'è una bella posizione più 4, e allora, riproviamo, facciamo un'altra, dai, dai, ok, raga, dai, cerchiamo di fare un'altra partita vinta, insieme subito con 2x7, ok, prendo la tour, no, non credo io, io devo andare al centro, comunque, però, proviamoci, tiziana secca, no, mi sta laggando un po', un po' di troppo, Samuele, capiscilo, no, mi sa che non mi faccio uscire, uccidere malamente, eh sì, che brutto farla, che andiamo a disposizione, meno 4, e ce lo perdiamo in faccia, giustamente, allora, se vi è il mio amico, che conosco, vediamo cosa scrive, allora, cambio il controller, vediamo che posso mettere, mettiamo a friendly che, penso che, ecco, questa squadra va bene, proviamoci, dai, anche se di livello 1, stiamo a squadra di livello 1, ok, seguo a te, va bene, andiamo, intanto mi ha baggato qua, allora, non capisco perché mi devo raggare in questa maniera tale, allora, andiamo alle nostre, mi sta laggando, mi sta fermando un po', aia, brutta storia, brutta storia, no, la multi mi ha ucciso, no, non ci posso fai niente perché mi, mi lagga, non so se vedete voi, ma io mi ne verrei dall'altro, ma non è, allora, siamo a uno scontro finale, allora ovviamente, 13 power up, come facciamo? non ce ne ho ucciso niente, praticamente neanche l'ho visto, allora, non ce la farà mai a soli, scappa, 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 ma, con 14 e le 5, ora, spiegatemi come dovevamo fare, comunque, un'altra questione più due, vabbè ragazzi, buongiorno di saluti, ci vediamo in vostri video, vi ricordo di lasciare un like, e iscrivetevi al canale, e anche di Alessandro, che però non è riuscito a giocare con noi, quindi, andiamo ad aprire due cassettine, l'altra me la tengo, comunque, 6 punti per bloc e 6 per nita, ne apriamo anche un'altra, 24 monete, 6 bloc e 10 slecca, e un biglietto, vabbè ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti! Ciao a tutti!